Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, dopo l'interrogatorio di garanzia e su richiesta del Pubblico Ministero, ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per Carmelo Collana, 53 anni, originario di Campobello di Licata e dipendente del comune di Canicattì, e per i fratelli Pietro e Vincenzo Martini, di 22 e 19 anni, di Belmonte Mezzagno. Si tratta delle tre persone arrestate nei giorni scorsi a seguito della scoperta, da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, della maxipiantagione di canapa indiana in un fondo agricolo del territorio di Naro. Operazione denominata Green River, che dopo giorni e giorni di osservazione e pedinamenti, effettuati anche con l'utilizzo di un drone, ha consentito di rinvenire non solo la maxipiantagione di canapa indiana con oltre 10.000 piante, ma anche due casolari utilizzati come essiccatoio e laboratorio di confessionamento. Complessivamente 30 le tonnellate di sostanza stupefacente rinvenute nell'ambito del più grosso sequestro mai operato in Sicilia. Droga che sull'illegale mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare oltre 15 milioni di euro. Tutti e tre dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Carmelo Collana, proprietario del fondo agricolo, anche di detenzione illegale di arma da guerra, una pistola calibro 9 di fabbricazione ungherese rinvenuta dai carabinieri e mai censita nei registri italiani. Sia per il dipendente del comune di Canicattì, sia per i due giovani palermitani, la difesa aveva chiesto una misura meno afflittiva. Richiesta che non è stata accolta, visto che il GIP ha disposto il carcere per tutti e tre. Sabato scorso intanto, dopo due giorni di lavoro, sono state ultimate le operazioni di distruzione della piantagione di canapa indiana che era sistemata e nascosta tra alberi di cachi.